direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 16 luglio saranno assegnati 100 premi garantiti da 50 mila euro ciascuno di super estate ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot 238 milioni 979 mila 737 euro il più alto mai raggiunto nella storia del super enalotto le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora al via l'estrazione del concorso numero 85 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 62 siamo al secondo numero con super enalotto si dice già a vincere secondo numero estratto è il numero 38 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 29 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 43 adesso scopriamo il quinto numero che le porta alle grandi vincite quinto numero estratto è il numero 71 è il momento di incrociare dita stiamo per completare la festina vincente il sesto numero estratto è il numero 28 dopo i sei numeri che assegnano al jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 il numero della festina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 75 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 62 38 29 43 71 28 il numero jolly è il numero 75 e ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite e supera una lotta fino a 100 volte premi anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 49 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 85 in ordine crescente 28 29 38 43 62 71 numero jolly 75 superstar 49 l'estrazione di oggi sabato 16 luglio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 238 milioni 900 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore la commissione di controllo sta effettuando anche le procedure di individuazione dei 100 codici alfanumerici di super estate entro le ore 0 30 saranno disponibili su www.superonalotto.it tanta felicità a tutti i fortunati vincitori ben ritrovati poco fa abbiamo estratti i numeri vincenti del concorso numero 85 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del superonalotto assegna 563.619 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 238 milioni 900 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di superonalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 240 milioni 200 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1 i 5 sono 5 e vincono 57.601 euro ciascuno i 4 sono 653 e vincono 447 euro ciascuno i 3 sono 30.651 e vincono 28 euro ciascuno i 2 sono 458.896 e vincono 5 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 323.288 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 3 e vincono 44.765 euro ciascuno i 3 stella sono 207 e vincono 2877 euro ciascuno 100 euro vanno i 3.164 due stella 10 euro e 19.999 uno stella e 5 euro e 50.041 zero stella inoltre 179 vincite da 50 euro ciascuna e 26.887 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Supernalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiori informazioni consultate il sito supernalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Supernalotto vi dà appuntamento a martedì 19 luglio e giocheremo per un jackpot di 240.200.000 euro per conoscere i 100 codici vincenti dell'iniziativa Super Estate andate su www.superanalotto.it i dati saranno disponibili entro le ore 0.30 arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti